Con elegante ritardo torna la puntata di console generation dove abbiamo puntato l'occhio, corso in macchina e menato le mani, perché i titoli quali sono? DIRT 4, SNIPER GOST WARRIOR 3 e Tekken 7 Ma ragazzi si parte, via dai, sigla! Sigla! Ed eccoci, bentornati a tutti gli appassionati di console e videogames, un saluto dell'Andrea E da Raffaele Siete su console generation ma non è venerdì, niente da fare Vi abbiamo fatto un brutto scherzo perché Raffaele questa settimana ha giocato d'anticipo È sempre colpa mia però Sì, è la verità però Ma prenditi le tue responsabilità ogni tanto Non vado io via, io sono qua Ma io vado via per lavoro Vabbè, in questo caso abbiamo anticipato così per questa volta e quindi siamo contenti di stare con voi Tra poco andiamo a salutare tutti gli amici che sono già in chat Oggi è il 22 giugno 2017 Qui nel nord Italia, nella zona di Milano C'è un'affa e un'umidità che fa schifo Raffaele Non si riesce a vivere Sì, va bene che guardi l'aria condizionata Però noi abbiamo l'aria condizionata Quindi ci va bene alla fine Per stavolta ci va bene A differenza della puntata scorsa Raffaele Questa volta sarà inquadrato con la videocamera per la videopuntata E quindi tutto in ordine ragazzi Partiamo subito perché col brano che arriva da DIRT 4 Che avete sentito in partenza Loro non so come si pronuncia Raffaele Younger Il brano è Out of my system Se volete cercarlo, ascoltarlo Nella puntata di oggi c'è la prova di Raffaele Che mena le mani con Tekken 7 Poi sempre Raffaele che si è dato all'estra Ha fatto lo straordinario con Sniper Ghost Warrior 3 E la mia prova di DIRT 4 Quindi partiamo proprio in pompa magna Oggi tante prove Oggi tante prove perché avevamo un po' di arretrati da fare L'abbiamo detto settimana scorsa nel Fuorionda E dobbiamo ancora recuperare tanti giochi Magari mettiamo un po' in secondo piano le news Però ci piaceva darvi il nostro contributo Per quelli che sono i giochi che abbiamo provato nelle ultime settimane Sì, non dimenticate che comunque c'è sempre la bomba della settimana Sempre la Resident Evil Curiosity E il commento in chat Di coloro che già sono con noi Ma voi che ci ascoltate in podcast O in videopuntata indifferita Venite, non al giovedì sera Ma al venerdì su Console Generation Chi c'è già dei nostri capisaldi? Un saluto particolare a Massimiliano Ciao Max Che è stato il primo questa sera Non vedeva nessuno collegarsi in chat e dire E diceva Oddio, adesso sono da solo Ma poi sono arrivati Eh sì, poi sono arrivati anche Maurizio, Marco, Alessio, Luca Che dice Ciao a tutti Questa settimana è volata È già venerdì Ah no, è giovedì Poi Ale Poi Giuseppe Lampo Che dice Sera a tutti È la mia prima diretta Ciao Giuseppe Benvenuto su Console Generation Grande Giuseppe Grazie per essere diventato uno dei nostri Mi raccomando Vedrai che Anche il prossimo venerdì ricordati Ti troverai bene con i ragazzi Che ci seguono sempre in chat Sono tutti dei Console Generati Come te E Maurizio dice Che fa un saluto anche al pilota E al buon copilota Che può accompagnare solo Ma è indispensabile Eh sì E si riferisce a una A che cosa A qualcosa che hai fatto E che hai combinato Giusto tra ieri e oggi Sì, sì, sì È andata bene Ieri ho fatto una gara GT Sport online È una versione beta Chiusa Test Quindi non è al gioco definitivo Mi sono buttato Grazie a Diciamo L'hardware che mi ha messo a disposizione Trust Master Con un T300 Con un volante in pelle Di cui vi parlerò in futuro E con una postazione Sparco I guanti Hypergrip Insomma Mannaggia Raffaele Ho tutto il necessario Per esprimermi al meglio Insomma ragazzi Ho fatto una gara Potete andare a vederla Sulla pagina di Console Generation Oppure anche con il mio commento Durante il guidato su Game Time Dove Faccio 5 giri alla morte Pull Position Ho portato a casa la vittoria Contro tanti ragazzi Che Giocavano da tante parti d'Europa E sono soddisfazione Eh sì Tra l'altro Andrea mi dice Oh hai visto il video Eh ho fatto un video Molto bello Dai mi fai sapere Fammi sapere cosa ne pensi Perché Secondo me è venuto Tutto bene Ma cosa vuoi che ne pensi io Cioè ha fatto praticamente i primi Due Un video da 5 minuti 6 minuti No I primi 40-50 secondi Il primo minuto Dai facciamo così Dove era un pochettino indietro Quindi si vedeva qualche sorpasso Poi gli altri 5 minuti Dove non succedeva assolutamente niente Perché era in testa E che bello Dov'è la bellezza Niente Nessuna parte Va bene va bene Raffaele Ma voglio ricordare una cosa Sei troppo bravo No no Ci sono ragazzi con più riflessi di me Quindi è dura Detto questo Mi ricordo Anzi vi voglio far sapere Che una volta Tanto tempo fa Insieme a Raffaele Abbiamo fatto delle sfide A split second Un gioco arcade Dove puoi far esplodere i palazzi Per cercare di Ostacolare il tuo avversario Beh Raffaele ha vinto Poche poche gare Ce n'era una in particolare Dove era in testa A due giri dalla fine E l'Andrea ha attivato un pulsante Dove è arrivato terzo Mi ricordo ancora Che Raffaele era incazzato nero Anche quella volta Mannaggia Ma ti voglio bene lo stesso Va bene Va bene Ricordiamo comunque Anche se giovedì Che al sesto anno consecutivo Siamo in diretta Tutti i venerdì Alle 22.30 Tramite Spreaker Difidate delle imitazioni E occhio al tarocco Tanto non ce ne sono Non mi preoccupare Non ce ne sono Ci trovate anche tramite GameSearch.it Dove i videogiochi Si vedono Da un altro punto di vista E dove il nostro Buon amico Emanuele È nell'altra stanza E ha detto No no Io non voglio essere ripreso Non voglio E quindi ci ha abbandonato Ma Emanuele poi Legge davvero le cose Sempre da un altro punto di vista Quindi È così Bisogna Capire Che ha dei modi Di lettura diverse È così avanti Rispetto agli altri Che sta giocando A Daytona USA È fantastico Fantastico Su PS3 Poi Le altre applicazioni Per raggiungerci Raffaele Basta andare su Google Oddio No scusami Mi sono perso Su una battuta Che non riuscivo a capire Cioè Perché c'era Maurizio che diceva Giuseppe Lampo Sei stato un fulmine E io non capivo perché Perché Mamma mia E vabbè Maurizio dal meglio di sé Dove trovarci Cercate Console Generation Su Google Ci trovate dappertutto Su tutti i social E anche su iTunes Dove potete trovare Anche le puntate Precedenti E poi Se avete voglia Di scriverci Un'email Info.consolegeneration Chiocciola Gmail Punto it E se non avete voglia Di scriverci un'email Fate lo stesso Quindi Info.consolegeneration Chiocciola Gmail Punto com Eh? Ma Gmail Punto com Non Gmail Punto it Cosa? Ha detto punto it? No Ha detto bene Punto com Sì sì Raffaele Non è venerdì Già ti trovi Spiazzato Va bene Io direi che Siccome le prove Sono tante Milioni di milioni È arrivato il momento Di andare a puntare bene All'argomento Come dire Mirando bene Al centro dell'attenzione Perché si parla Dei cecchini Si parla di Sniper Che torna In questa edizione Che si chiama Sniper Ghost Warrior 3 E l'ha provata per noi Il cecchino per eccellenza Raffaele Cinquegrana Il cecchino mica tanto Sniper Ghost Warrior 3 Che è sviluppato Da CI Games E pubblicato Da Coach Media L'ho provato Su Playstation 4 È disponibile anche Su Xbox One E anche su PC Ora ragazzi Se c'è una cosa Che Sniper Ghost Warrior 3 Fa bene È farti sembrare Davvero un cecchino Io non sono un grande Appassionato di questi giochi Ma sentite un po' Il bello è che fa Trovi un bel luogo Da cui dominare l'area Ti apposti E poi inizi a guardare Dal cannocchiale Per marcare nemici Con calma Con calma Su cui compare poi Un indicatore Eventualmente poi Puoi anche mandare Un drone Per sondare la zona E rivelare le minacce Nascoste Non si sa mai Individui poi il bersaglio Regoli l'altezza Del cannocchiale In base alla sua distanza Trattieni il respiro Miri alla testa E premi il grilletto E se hai fatto centro Cosa succede Ti godi una bella visione Del proiettile in volo Che arriva a destinazione Wow È proprio bella Questa è tipo A rallentatore Quindi Il classico Marchio di fabbrica Di sniper Bello bello Mi diverte quello Moltissimo E avrò fatto fuori Più di 50 nemici In questo modo E ancora mi sto divertendo Quindi non è che mi sta annoiando Ci sto giocando io però In modalità normale Ma se siete dei veterani Di questa serie Il consiglio è di provarlo A livelli più alti Perché ad esempio La difficoltà massima Ci sono tre livelli Di difficoltà Che cosa fa Rimuove qualsiasi indicatore Che vi faccia capire Dove finirà il colpo E allora dovrete Tenere in considerazione La cura del vento La direzione E la potenza del vento La gravità Le condizioni atmosferiche Il vostro affanno Insomma Fare centro Non è assolutamente facile È possibile praticamente Comunque il bello Di questo terzo episodio È che si adatta molto bene Alla struttura open world Lo so che spesso Siamo qui a dire Soprattutto io Dico che gli open world Sono diventati Un po' sempre uguali Ci sono sempre troppe cose da fare Sono noiose Eccetera eccetera Però in Sniper Ghost Warrior Il tutto è più contenuto Perché le mappe Non sono esageratamente grandi E affrontare un appostamento nemico Completamente in libertà Mi ha dato Un senso di potere E di controllo Ma dai Questa è una riscoperta Sì perché Domini la zona dall'alto Tipicamente E questo poi Apre anche Un po' a qualche scenetta Divertente Perché questo Questo Cecchino Sembra più uno stambecco Che non un cecchino Perché si trova a saltare Ad arrampicarsi Sulle montagne Che dico io Ormai Essere dei free climber E dei Come si chiamano Quelli che fanno parkour È diventata Praticamente la norma Per un videogame Assassin's Creed Uncharted Esattamente Però questo è E tutto sommato Comunque ci sta Comunque Come in ogni open world Potrete seguire le missioni principali Oppure dedicarvi a qualche compito secondario Spendere punti abilità Potenziare le armi E creare nuovo equipaggiamento Cercare punti Anzi Sì Cercare punti per il viaggio rapido Collezionabili E praticamente Come avete capito Tutto quello che normalmente fate In un open world Una missione dura una vita Raffaele No in realtà Perché ci sono tante missioni Che sono ambientate Su delle mappe Come dicevo Un pochettino più confinate Quindi non è che una missione Ti dura tantissimo Una missione ti dura Anche magari una mezz'ora Anche con tutte le opzioni secondarie Diciamo le missioni Le opzioni secondarie Fanno parte di quella mappa Di quello Chiamiamolo livello Però io posso sparare Andare dritto E anche non andare a cercarle Quindi ridurre Esattamente Ok Però in quel caso Ti perdi Gran parte del divertimento Posso scegliere però Comunque la storia È una storia Un po' da film di serie B Ma nel complesso Devo dire che fa il suo dovere Cosa dovete fare Dovete Sirete impegnati In una serie di missioni E il tentativo Di salvare vostro fratello Che guarda caso È finito in mano nemica Dopo una missione Finita male Vabbè Insomma niente di che Almeno non c'è la principessa Non c'è la principessa La cosa che mi è piaciuta È che tanto Tanto dell'esperienza Di sniper ghost warrior È fatta veramente molto bene Peccato però Che questa mia esperienza È stata minata Da una serie di problemi Non indifferenti Perché Allora A parte che per caricare il livello Ci mette quasi 5 minuti No dai Raffaele c'è la console Che non funziona 5 minuti No 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 5 minuti Però almeno caricato quello Poi non carica più Vabbè vorrei vedere Sono stato costretto E questo è il peggio A riavviare per tre volte La missione O diverse missioni Perché il personaggio Si incastrava nel paesaggio E non è bello E per tutte e tre le volte Il progresso della missione Chiaramente È andato presto Ah la morte tua Ricordo che con Tom Brider Facesti In quel caso Dovevo riniziare il gioco Ed era totalmente Ancora peggio Comunque poi Cosa succede Alcune volte Gli indicatori Per raccogliere gli oggetti Non compaiono A volte Assegni un tasto rapido Ma per farlo funzionare Devi riassegnarlo Perché non funziona più A volte invece Ti dice Che per fargli entrare il drone Devi premere il quadrato Invece no Devi premere il tasto su Del pad E quindi c'è qualche Imperfezione Qua e là Diciamo che L'avventura non procede Sempre liscia Non vi farà impazzire Nemmeno la realizzazione grafica Nel controllo dei veicoli Ma comunque Devo dire che tutto si muove Con Senza grossi problemi Sui 30 fotogrammi al secondo Solo ogni tanto Vedi che c'è qualche calo L'audio invece È più che buono Soprattutto grazie alle musiche Azzeccatissime Insomma Giusto per chiudere Non è che sia un grande appassionato Di questo genere di giochi Come vi dicevo In apertura Però vi posso dire Che mi ha sorpreso Quindi mi è piaciuto Speriamo soltanto Che risolvano questi problemi Perché altrimenti Sono un po' Un freno a mano tirato Ma sì Le patch ormai Arrivano Costantemente Con tutti i titoli Su tutte le piattaforme Per cui Caro Raffaele Io credo proprio Che sarai accontentato E Non avrai più Queste piccole Sbavature Ma come diciamo sempre Piccole non tanto Diciamo sempre E spesso Che Molti titoli Anzi Quale titolo Non ha qualche problemino Nessuno Eh ho capito Ma questo ce n'ha qualcuno di più Vabbè Domanda di Massimiliano L'intelligenza artificiale Dei nemici com'è E' discreta Dipende sempre a che livello Di difficoltà ci giocate C'è da dire che Quando mi sono trovato A confrontarmi Con un avversario E non ero a distanza Di tipo 150-200 metri Ho sempre avuto la peggio E' anche vero Che però A livello di difficoltà A cui sto giocando io Quando allerti Gli avversari Questi si reagiscono In maniera anche convincente Però dopo un po' Mollano il colpo Quindi Basta sparire Per 5 minuti E poi ritorni E la base E' ancora perfettamente Navigabilissima Io ricordo in passato Che in Sniper C'era la possibilità Di avere un approccio diverso Cercando magari di Come dire Ingannare i nemici Con qualche trappola Qualche mezzo Certo Puoi farlo ancora Quindi potevi andare Un pochino più a testa bassa In alcuni momenti Questo è il bello di Sniper Potere un pochettino Decidere come giocarti Livello A tuo piacimento E poi Insomma Per chi non ama L'azione pura L'apostrofo azione Esatto Può fare al caso suo Vabbè Io direi Raffaele Sono rimasto colpito Che ti abbia catturato Non l'avrei detto Né che io l'avrei detto Invece è successo così Dirt 4 invece Andrea È arrivato il momento Di mettersi al volante Ancora Io vivo lì ormai Sempre su Playstation 4 Ma c'è anche su Xbox One E anche su PC Se non sbaglio Sempre di Codemaster E sempre anche in questo caso Come Sniper Di Coach Media Come ricorderete In Corona I miglior racing game 2016 Il precedente Dirt Rally Grazie alla sua fluidità E immediatezza Nei controlli della vettura Questa volta Codemaster ha cambiato molto Anche se l'apparenza Non sembrerebbe Dirt 4 è nettamente Più ampio Rispetto al suo predecessore Con la possibilità Di generare tracciati In maniera procedurale A seconda delle nostre preferenze In termini di lunghezza E difficoltà Quindi Raffaele Possiamo Scegliere Cambiare E creare L'ingrediente Che preferiamo Questa modalità Arriva per potenziare La modalità libera Che preferisco Permettendoci di decidere Dove Come E quando Ma più gli stessi Anzi Mai più gli stessi paesaggi Quindi La ripetizione Degli stessi passaggi Più o meno Perché la generazione Di un tracciato Porterà con sé Dei segmenti Precalcolati Raffaele Donando varietà All'esperienza di gioco Ma dopo un po' Vai a conoscere Alcuni passaggi E vabbè D'altronde È una generazione Procedurale Un po' limitata Fra le altre modalità Di gioco Ritorna il rallycross Che ho apprezzato Anche in passato Perché è più arcade Con sane sportellate Nei versus multigiocatore Invece un ritorno Dal passato È la modalità Landrush Dove a bordo Di buggy sovralimentate Dovremo completare E competere In circuiti Privi di asfalto Tutti di terriccio Con salti Raffaele In puro stile Motocross Grazie Alle rampe In terriccio Divertente Calcolare Quanta potenza Dare prima Dello skyjump Quindi salti In cielo Raffaele Skyjump Sì più o meno Perché poi bisogna Atterrare In prossimità Della curva E lì sono dolori Raffaele Perché vai lungo In area Il freno Non funziona Io è sicuro Che vado lungo Ma non puoi controllare La macchina in volo Mi sa proprio di no Anche se non fa parte Del mio stile di guida E i giocatori Non passeranno La maggior parte Del tempo In questa disciplina Ci starà Ragazzi Un qualcosa in più Che non guasta Ovviamente Non manca La modalità carriera Con il campionato Per sbloccare Nuove auto E classi Sul sistema di controllo E qui che farei Un pochino più Attenzione Codemaster Ha spinto maggiormente Per fornirci Un feedback Reale Basti pensare Che l'aerodinamica Ad alte velocità Influisce Come mai Prima d'ora In un invert Proprio Sul comportamento Dell'auto Si parte Con la scelta Se avere un approccio Arcade O simulativo Dove nel primo caso L'utente sarà accompagnato Per gradi Verso La seconda Parte Più Professionale Raffaele Quindi introduce Molto di più E più accessibile Rispetto al passato Tecnicamente Dirt 4 Ha tutto E di più Durante le soste Fra una tappa e l'altra Conoscere la meccanica Ed effettuare Gli interventi giusti Per migliorare Le performance Della vettura Non è cosa semplice E per tutti Perché Devi conoscere Veramente Le parti meccaniche Per poter Trovare La chiave di volta Potremmo Perderci in ore Di collaudi Al fine di trovare Il miglior compromesso Che fa per noi Anche se possiede Tanto sotto L'aspetto grafico Non graffia Come il precedente Raffaele Forse per dare Maggior focus Alla creazione Dei circuiti Forse per L'ampliamento Dei comportamenti Dell'auto Resta il fatto Che una differenza Si nota Anche se non intacca L'esperienza Di gioco finale L'audio si riconferma Straordinario Con alcuni motori Che gasano Il giocatore A mille Dirt 4 E' una signora Anzi Un signora Racing game Che porta avanti La tradizione di rally Di Codemaster Dandoci ancora Di più Sempre di più Accontentando Un pubblico Ancora più ampio Rinunciando a qualcosa Però Raffaele Dirt Rally Era un grande titolo Dirt 4 Paga la poca distanza Di pubblicazione Dal lavoro superbo Visto in passato E questo è un buon problema E quindi La vera domanda è Se non avete acquistato Né uno Né l'altro Qual è quello giusto? Eh Bella domanda E tu che cosa consigli? Eh Non lo so Eh A volte che ti puoi difendere Eh C'è ragione Questo è più ricco Ho di più Volete più modalità? Dirt 4 Volete qualcosa Secondo me Un pochino più raffinato Forse il precedente Dirt Che ti era piaciuto Veramente tanto Andrea C'è qualche cosa Nell'aria Che sta Non hai fatto una puzzetta No 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 A meno male Però c'è qualche cosa Che puzza Perché questi annunci improbabili Sono veramente Il peggio del peggio Delle curiose inserzioni A tema videogames Che troviamo nella vita quotidiana Purtroppo E che purtroppo Tutte le settimane Marco Che sta bello al fresco In montagna Adesso Con 15 gradi Ci manda Da leggere In diretta Per qualcuno Magari per fortuna Perché ci fanno 4 risate E sono contenti Eh già Vediamo cosa ci ha detto Questa settimana Allora qui il prezzo è buono È 50 euro 50 euro Questo ragazzo È di poche parole Perché alla fine Essere di poche parole Paga Questo vende una Questo vende una Playstexion Sì Grazie Scritto Playstexion Playstexion Beh Sì sì 50 euro Vendo Vembo Vembo Playstexion Playstexion Prezzo 50 euro Sì ma Non si sa quanto Tipologia Audio video Lettore in epitre E scrive da Torna su un attimino Raffaele Da un paese Che ha un nome particolare Lo conosco io Lo so Dillo tu Raffaele Mister Bianco Provincia di Catania Allora io saluto Tutti gli amici Se ci seguono Se sono appassionati Di videogames e console Però è un paese Che si chiama Mister Bianco Il signor Bianco È un po' strano È la cosa più curiosa Di questo Guarda tutte le volte All'inizio Quando avevo Quando ero stato assunto Dall'azienda per cui lavoro C'era questo paese C'era uno Un rivenditore Di Mister Bianco Io pensavo che fosse Il nome del rivenditore Che vendeva elettronica Vendeva lavatrici No Mister Bianco È il nome del paese Ammetto che al prossimo Annuncio Perché Intanto Tratta di un titolo Che mi è piaciuto tanto A 50 euro Lui ci offre Un videogioco Lo tengo Un attimino In sospeso Che si chiama The Irritire L'irritato Vuol dire l'irritato Raffaele Irritire Ragazzi È The Order 1886 Cosa vuol dire Di Irritire Tu che sei tutto Dell'inglese Vuol dire irritato Irritire Non lo so Vuol dire irritire Irritire perché tu stai Irritendo qualcuno Lo stai mettendo nel sacco Mi piace di più irritato Perché mi fa più ridere 30 euro 30 euro li vale Però Secondo me sì 30 euro li vale Di Order sì Di Irritire o no Devo dire che Questa è bella Ti è capitata quella bella Marco ci ha dato Questa settimana Dei bei Dei bei errori Di battitura Che Questo è In spagnolo si leggerebbe Giocio Il Giocio Il Giocio Grazie 5 Cos'è il Giocio Grazie 5 A 40 euro Da Cremona Vendo Già 5 Nuovo Comprato poi Non l'ho più Utilizzato Incavolato ancora Con il cellofan Prezzo 40 Trattabile Ragazzi Cosa può essere Aspetta Andrea Aspetta Facciamo indovinare ragazzi Cosa può essere il gioco Lo puoi Lo puoi rileggere tu Lo puoi rileggere Perché tu lo devi leggere Con la giusta Il giusto modo Diversamente da te Vendo Già 5 Nuovo Comprato poi Non l'ho più utilizzato Incavolato ancora Con il cellofan Prezzo 40 Trattabile Che gioco è ragazzi Secondo voi Com'è che si chiama Il titolo Il sottotitolo Gioco Grazie 5 No Giocio Il Giocio Giocio C-H-O Secondo voi ragazzi In chat Cosa può essere Ce lo dite tra poco Intanto vi leggo la prossima Perché FIFA 17 A 40 euro E dice Lo vendo Perché è uno Punto Poi Schifo E mi fa incazzare Io devo farlo vedere Ragazzi Perché Se no Sembra una bugia Lo vendo Perché è uno schifo E mi fa incazzare 40 euro FIFA 17 Mi sembra un po' Curiosa come cosa E dopo vediamo se qualcuno ha scritto Ha indovinato Giuseppe GTA 5 Bravo Giuseppe Giuseppe Maurizio Anche Maurizio Bravissimi Bravissimi Siete esperti di annunci prodabili Non è che Marco Gli ha detto Qual è il gioco No 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 Siamo messi Veramente Veramente male Che dice Andrea Io direi di recuperare Con qualche news Che infiliamo qua Vuoi infilarla per casa 2-3 news Vai Raffaele Ti lascio Carta bianca Perché non è venerdì E quindi non voglio bacchettare Spezziamo un pochettino Dai Perché da questa Da questo E3 Non abbiamo sentito parlare di Halo E a quanto pare Non ne sentiremo parlare Per un bel po' Poi ti racconto Cosa è successo con Halo Negli ultimi giorni Ecco Racconta Racconta Allora Che cosa è successo Come mai Non hanno fatto vedere Halo O un seguito Che Ha risposto Sì Ha risposto a questa domanda Jeff Easterling Di 343 Industries Ci dice Dice C'è poco da dire Su questo fronte E' chiaro che non parleremo Del prossimo titolo di Halo Per un bel po' di tempo E no Questo non significa Gamescom Oppure PAX Credete a noi Quando avremo qualcosa di pronto Da cui levare il velo Lo saprete E non sarà presto Quindi non c'è niente Per il momento Niente da annunciare E' per quello che non hanno parlato Ragazzi Perché non hanno parlato Perché non c'è niente La cosa più semplice del mondo Poi un'altra notizia Raffaele Naughty Dog Uncharted Non è ancora finito Sì perché Sapevamo che Esce il nuovo DLC Però Qui si parla di qualcos'altro Perché Uncharted 4 Avrà anche Sancito La fine della storia Di Nathan Drake Ma a quanto pare Non vale lo stesso Per la saga in generale Quello di Naughty Dog E' un mondo enorme Pieno di ladri Tagliagole Cercatori di tesoro Col Peculiare senso Della legalità Un'espansione L'eredità perduta In arrivo a brevissimo Lo sappiamo Ma se ci fosse ancora altro Nel loro calderone A confermarlo E' lo stesso team di sviluppo Ancora impiegato Sui lavori Della corposa Espansione L'eredità perduta Prende le dovute distanze Dal classico Nathan Drake Per esplorare Più in profondità La cara Claude Fraser Co-protagonista Del secondo episodio Sì che Era un poco di buono Che Ha lasciato un po' il segno Eh già Perché era abbastanza Hot Il cambio di protagonista Quindi C'è già stato E se non fosse l'ultimo Direi che Non siamo alla fine Ha infatti detto Sean S. Kaig Scrittore Creative Director Durante l'intervista Ai colleghi di Eurogamer E poi Ci tira tutta la spatafiata Ma abbiamo capito Che C'è in ballo Qualcosa di più Per chi ha finito L'ultimo Uncharted 4 Forse C'è già Un'idea di collegamento A qualcos'altro Ma Per chi non l'avesse ancora giocato Dobbiamo tenerci Bocca cucita E allora Parliamo invece di una Di una serie Che purtroppo È stata un po' sfortunata Perché Hitman Ha avuto questa iterazione Fatta Con diversi episodi Che però Non è stata molto apprezzata E allora Lo studio di sviluppo Adesso è diventato Indipendente Perché purtroppo Questa serie Non sembrava avere Il successo Che si aspettavano E allora Cosa ha fatto lo sviluppatore IO Interactive Semplicemente Vi dà la possibilità Di scaricare Il gioco Gratuitamente Non con tutte le missioni Ma quantomeno Di provare Diciamo così Il primo episodio Che comprende Due missioni Esatto Con tutte le relative Scene di intermezzo Due escalation contract Più di 40 sfide E 17 Achievement La cosa che vi consiglio è Visto che È completamente Gratuita Questa prima parte Scaricatela E poi Se volete acquistarla La potete acquistare Digitalmente A un prezzo Molto vantaggioso Sotto i 20 euro Se non sbaglio Quindi Mettetelo alla prova Perché Alla fine Magari 60 euro Davano un po' fastidio Però il gioco Meritava Ma sai cos'è che L'aveva penalizzato un po' Al fatto di avere A distanza di tanto tempo Una missione con l'altra Dove tu la rifacevi La stessa missione Con approcci diversi Cercando di cambiare Un pochettino La tua strategia Ma quando l'hai fatta Una volta Due Tre Quattro E Raffaele E vabbè Basta E volevo dirvi Questa cosa Che mi è capitata Con Halo 5 Guardians Stavo giocando A Hot Wheels Su Forza Horizon 3 Su Xbox One È uscito Un bel aggiornamento Per Halo 5 Sai quanto pesa? No 100 giga Ma come è possibile? 98 gigabyte Di download 98 giga Sì ho stoppato tutto Stop Mi ricordo che Con Gears of War 4 Era uscita Una cosa del genere Che all'inizio Nei primi giorni Dall'uscita C'era una lettura Da parte della console Di gigabyte Inauditi Per scaricare Una porzione di gioco O una patch Beh Può darsi che è successa La stessa cosa Ma non lo so Quello era successo su PC 98 giga Parola domanda Mamma mia 98 giga Veramente sono Insopportabile Va bene Raffaele Io direi che Dopo queste Un paio di pillole Dalle news È arrivato il momento Di Così Scaldare le mani Raffaele Perché Tu sei sempre stato Uno portato Per fare Botte Schiaffi C'è uno Ci provo Lo vedete Per voi che siete In videopuntato Vedete È proprio Un tipo Cattivo Se lo incontrate In strada Cambiate direzione Perché lui con le mani Ci sa fare E picchia parecchio Raffaele Raffaele Ha provato Però Tantino In realtà Per cui vorrei dare Magari un paio di insight Tekken 7 È arrivato Tekken 7 Dopo quanto tempo Dopo una vita Troppo tempo Meglio tardi che mai Troppo 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 tempo Io l'ho provato Su Xbox One Ma c'è anche su PC E su Playstation 4 Ed è stato sviluppato E pubblicato Da Bandai Namco Ora Tekken 7 Che cosa fa? Torna la famiglia Mishima Con tutti i suoi problemi Familiari Che non vorrei mai avere Che ci accompagnano Dal 1994 E quindi sono aumentati La famiglia è più forte Sì è sempre più numerosa Problemi che sono pronti A risolvere Come al solito Dandoseli di santa ragione In combattimenti Uno contro uno In arene variegate La storia non è mai stata Il suo punto di forza E Tekken 7 Non fa granché Per renderla interessante Anzi La modalità storia Si sbriga in pochi round Ed è anni luce Lontana dai fasti Di Injustice 2 Ma sappiamo tutti Che un picchiaduro Alla fine Dà il meglio Combattendo contro un amico Online O nella stessa stanza E da questo punto di vista Vi posso dire Che Tekken 7 Non delude I combattimenti Sono veloci E articolati Anche se Dal mio punto di vista Sono ancora un po' legnosi Però è una caratteristica Di sempre di Tekken Quindi non è che si può dire niente Si è abituato a Zeodora Live Certo Però Dico Questa è la mia opinione Gli oltre 30 lottatori Sono in larga parte Ben differenziati fra loro E ci sono anche novità Nella meccanica di gioco Ad esempio Quando si è a corto di energia Si attiva la modalità rage Ovvero la rabbia Il personaggio praticamente Prende un colorino rossasso Si può dire Gli girano le palle Esatto E permette questa modalità Di sferrare dei colpi Più potenti E di usare una super mossa Premendo un paio di tasti Ci sono poi altre finezze Nel sistema di combattimento Però Quello che manca È una modalità di allenamento Che effettivamente Ti faccia imparare Ti insegni Questo tipo di Tecniche Purtroppo Questa cosa manca E alla fine Si fa sentire Che manca Si Il problema qual è Che chi non mastica Tekken da tanto tempo Non è che farà Così in fretta Ad apprezzarne Tutte quante le finezze In ogni caso Dal punto di vista Del divertimento Devo dire che Tekken 7 c'è Però Visti i ritardi Nello sviluppo Perché la versione Per sala giochi È uscita nel 2015 Due anni fa Mi sarei aspettato di più Cioè alla fine Le arene sono piuttosto scialbe Al di là dei numerosi oggetti Da sbloccare Vestiti E costumi Ce ne sono affinità Lì mi sono perso via Perché veramente Puoi tirare fuori Delle cose più assurde Certo Però alla fine Non è che ci siano Grandi stimoli Per giocarci in solitario E poi sul comparto online Almeno La versione Xbox Che ho provato Ha mostrato Dei lunghi tempi di attesa Nelle lobby E soprattutto Anche qualche problema Di troppo Di latenza Quando giocavo Contro Degli avversari Online Personaggio preferito Personaggio preferito Sempre Nina Williams Ok niente Io Akuma Akuma Eh sì È uno di Street Fighter Nina Williams Bene Wins Sì Raffaele usa spesso Le signorine Che Che tirano il calcio In faccia alla romana Dai Comunque la cosa più deludente Di Xbox One È il comparto grafico Che delude Senza ombra di dubbio Allora È vero che si muove A 60 fotogrammi al secondo Però È soltanto in 720p Vabbè Anche la versione PlayStation 4 Non è in full HD Però comunque 720p È sempre meno Rispetto a quella PlayStation 4 Ma È penalizzata Da meno effetti luce Rispetto a PS4 E Ha un aspetto Veramente piatto E poco rifinito E poi La cosa che mi ha fatto Veramente arrabbiare È che carica per quasi Un minuto Fra un match e l'altro Cioè ora Tenete conto Eh sì Una partita Di tre round Dura circa Due minuti O meno E quindi Un minuto È un tempo Veramente lunghissimo Insomma Potrà anche essere un buon Tekken E soddisfare gli amanti Di vecchia data Ma di questi tempi Dal mio punto di vista Penso che ci voglia Uno sforzo in più Sia per catturare Un nuovo pubblico Sia anche per tenersi Gli appassionati Ora non ricordo Quanto tempo ci mette A caricare Tekken 7 Su PS4 Pro Ma non mi sembra Che sia un minuto Non ricordo Questa lunghezza Può essere che Da quando finisce Il round E torni alla selezione Del personaggio E ricarichi poi Chiaramente La partita Un minuto Cronometrato E c'era anche Emanuele Cabrini Di GameSource.it Che può confermare Esatto Va bene Raffaele Quindi Non sei contentissimo C'è da dire Non tanto C'è da dire No è un buon gioco Sicuramente Però A me ha colpito Mi sono divertito Perché chiaramente Con Akuma Venendo da Un pochino più strada Con Street Fighter Mi sono trovato Abbastanza bene Con le mosse Invece di imparare I personaggi Classici di Tekken Perché Raffaele Diciamo la verità Noi non abbiamo mai Giocato E portato avanti I capitoli di Tekken Sin dagli albori Noi giocavamo Con altri titoli Tekken 3 Ci ho giocato parecchio Tekken 1 Non ci ho giocato parecchio Quindi E quindi Allora era rimasto Solo io Tagliato fuori Eh sì Perché io ci giocavo Con Luca Ecco lì Ti vedi Andrò a casa degli amici Che avevano la console Giusta Già 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 Quindi magari anche Nell'abilità Di conoscere bene Tekken Io sono un po' tagliato fuori Da quel punto di vista Però La Real Engine Si vede Con questi personaggi Che sono Non l'hai ricordato E la cosa Mi ha colpito Sono talmente grandi Che quasi Non ci stanno dentro Lo schermo Vabbè ma questa ormai È una cosa normale Però mi piace Mi piace vedere Questi personaggioni Hai fatto un piccolo Una piccola comparazione Nella tua prova Con Injustice 2 Che effettivamente Nella modalità Single player Ha tantissime Missioni Nel multiverso Da poter Sbloccare Quindi lì Si apre un mondo Da single player È diverso È diverso Ci vuole È più corposo Più ricco Piuttosto Se Tekken 7 Fosse uscito Anche soltanto L'anno scorso Ci avremmo fatto Un po' meno caso Probabilmente Perché anzi Eravamo ancora Le carci le ferite Dalla disfatta Di Street Fighter 5 Però avendo Purtroppo Adesso Come termine di paragone Injustice 2 Non possiamo far finta Che non sia mai uscito La cosa Che mi stupisce Di Luca Dice che lui Usa Low Per ora Ha 124 combattimenti Con solo 5 sconfitte Complimenti Luca Poi mi chiede Se ho usato Qualcuno dei nuovi personaggi Sì Li ho usati Praticamente tutti quanti Non c'è stato nessuno Che mi ha dato Particolari soddisfazioni Perché sono un po' Arancorato Alla mia Nina Ho un Come con Street Fighter Continuo a utilizzare Sempre c'è una Nina Hai capito La Nina Va bene Raffaele Abbiamo fatto 3 prove Siamo già Oltre 35 minuti In questo giovedì Di console generation Un po' bizzarro Un po' matto Perché ormai A livello di DNA Se non è venerdì Non ci troviamo Però è pronta Una bombettina Che potrebbe Farvi leccare I baffi Come noi Eh sì Una bomba Che per chi ha vissuto Gli anni 80 È effettivamente Una bomba La mia prima Per chi è nato Per chi è nato Negli anni 2000 Potrebbe non dire niente Potrebbe non essere Assolutamente Una notizia di rilievo Potrebbe dire Che è sta zozzeria Vai Andrea Eh no Vai tu Raffaele Che ce l'hai già lì Sul piatto d'argento Va bene Cosa ritorna? Ritorna Atari La console Atari Che per i giovani Sarà sicuramente Una console Che sembra fatta di legno Veramente ragazzi Nelle sue dimensioni Nella sua struttura Sembra fatta di legno Pare Non è Confermata La notizia Che Atari torni Con una nuova console Che fondamentalmente Raffaele È un pc Bombardato Beh staremo un attimino A vedere Comunque questa è la conferma Che arriva direttamente Dal gran capo Della società Ovvero Fred Chesnay Penso che sia un francese Boh non lo so Che si riprende Dall'istanza di farlimento Che è stata fatta Nel 2013 Per Ritirare fuori Una console Che ancora non si sa Quando arriverà Comunque La scorsa settimana È stato lanciato Il sito Atari Box In cui venivano mostrati Alcuni scorci Di una nuova console Con l'aspetto Della classica Atari 2006 Chesnay O come si chiama Ha anche affermato Che la nuova console Farà uso di hardware PC Quindi non hardware dedicato Non è ben chiaro però Se si tratti Di un sistema Che emuli Titoli classici O di una vera E propria console Next gen Staremo a vedere Dai Comunque anche le console Che utilizziamo Xbox Playstation Hanno tanto Del PC Per cui Abbiamo visto negli anni Che si avvicinano Sempre di più A questo tipo di tecnologia E sarebbe assurdo Non andare in quella direzione Però ragazzi Ci fa piacere Perché tornare Con un logo mitico Un marchio mitico Del passato Si potrebbe aggiungere Anche un'altra cosa Mitica del passato Perché a noi piace tanto Sega Sonic Con i suoi titoli Bravo Che in queste ore Ha visto un'altra notizia Che personalmente Sulla piattaforma Che adesso Raffaele Vi spiegherà Interessa relativamente Però è sempre Sega Che torna Chi sa mai che un giorno Torni una console Di questa casa Mitica Il Mega Drive Nuovo Non lo so Se vi piacciono giochi Come Altered Beast E come Come si chiama l'altro Sonic the Edge Oppure Comics Zone E tanti altri Golden X Golden X Eccetera Sappiate che Sega Ha in programma Da qua I prossimi tre anni Di lanciarli Tutti gratuitamente Su piattaforma Però mobile Quindi su Android E su iOS E allora C'è già disponibile Altered Beast C'è già disponibile Sonic the Edge Sono completamente Gratuiti E senza pubblicità Quindi O comunque Senza pubblicità invasiva Diciamo così Quindi Il mio consiglio è Provate a scaricarlo Anche sul vostro smartphone Purtroppo Non sembrano girare Molto bene Perché sono stati fatti Dei port Tramite la piattaforma Unix Che è andato un po' Ad appesantire Quello che è la gestione Dell'emulazione Però alla fine Sono gratuiti Primo o poi Ci hanno già detto Che arriveranno Capolavori Come anche Jet Set Radio Per esempio O cose per il Dreamcast Quindi Non vedo l'ora magari Di vedere Non dico uno Shenmue Ma un Virtua Fighter 5 O cose del genere Staremo un pochettino a vedere Magari lo smartphone Lo puoi collegare alla televisione È gratis Ci giochi per 5 minuti E poi li accantoni Oppure Lo smartphone Lo prendete Lo lanciate dalla finestra E magari è stato anche meglio E vabbè Chiaramente è una battuta Ragazzi Se no poi Magari qualcuno si offende Non critico Non criticherò mai Chi gioca su altre piattaforme Diverse da quelle Che utilizzo Personalmente Ma ragazzi Non mi piace giocare Con lo smartphone Che male c'è Che c'è di male Che male c'è Siamo arrivati a 40 minuti Maieri ti vuoi fare una partitina Maieri ti vuoi fare una partitina Però personalmente Non spendo molto tempo Anche perché non ce l'ho Non ce l'ho Ma con i giochi del passato Quindi me li ricordo Più belli di quanto sono oggi Dipende Dipende Ale vorrebbe un nuovo Virtua Fighter Ma adesso non c'è niente di nuovo C'è anzi qualcosa di vecchio Qualcosa di Di marcio Ah sì arrivano loro I luridi Qualcosa di Di schifoso Di schifoso Sì Qui c'era una cosa Qualcosa di buono Un gioco del cioccolato No in questo caso C'è solo il cioccolato Solo schifo Allora Qui ce ne sono in realtà Due Due Ma ti lascio Ma perché non le facciamo una E l'altra ce la teniamo Per settimana prossima Allora ti lascio quella più nuova Facciamole tutte e due Dai Allora La più fresca è questa A volte non abbiamo una Resident Evil Curiosity A volte ne abbiamo due Ma andate a capirlo Anche nelle sale italiane Resident Evil Vendetta Il nuovo film in computer grafica Della serie ispirata Ai videogiochi prodotti Dalla Capcom È arrivato La pellicola diretta Da Takanori Tsujimoto Noto per aver lavorato Alla regia della serie The Next Generation Path Labor E basata su una sceneggiatura Originale firmata da Makoto Fukami Lo scrittore di Psycho Pass Che non so cosa sia Scusate Sarà proiettata Sarà proiettata In esclusiva In tutte le sale The Space Dal 26 al 28 giugno Questa settimana E quindi Diversamente dalla serie Cinematografica Con Mila Iobovic E diretta dal marito Paul Anderson I film in CGI In computer grafica Sono ispirati Alle vicende Narrate nella saga Videoludica Vendetta Vendetta in particolare Vendetta in particolare Si svolge Cronologicamente Dopo Resident Evil 7 E prima Di Resident Evil 7 Biohazard Vabbè Resident Evil 7 E i protagonisti Sono tre personaggi Più conosciuti E amati dai giocatori C'è Leon Kennedy Poi c'è Chris Redfield E Rebecca Chambers E quindi Raffaele C'è il trailer Ufficiale Che si può andare A cercare online E ci saranno anche Delle situazioni extra Presso i The Space Cinema Ragazzi Può essere Più bello Dei film Di Mila Iobovic Può darsi A me la cosa Che non va giù Di questi eventi extra E che costano di più Rispetto agli film normali Che ti do Io ho la tessera The Space E non sopporto Che gli extra Non vale la tessera The Space E che cosa L'ho fatta fare E quindi Non andrò a vedere Neanche questo Resident Evil Vendetta Mi dispiace E invece Andatevi a sentire Gratuitamente Su Youtube O a scaricare Anche gratuitamente Una cosa Che è tutta italiana Perché Digital Bros Annuncia una grande novità E li salutiamo I ragazzi di Digital Bros Ciao Da questa settimana Infatti disponibile In download gratuito Resident Evil Un brano prodotto Da TY1 Non so come si legga Comunque è un Torino York 1 Esatto È un produttore Per Clementino e Izzy Ammazza Fa tutto l'inglese E poi fa Clementino Clementino Sì Clem Giacchettino La multilazionale Dal cuore italiano Ma chi la scrive Sta roba Dal cuore italiano Ha collaborato Vabbè sì Certo Circollocuzioni Ha collaborato Alla realizzazione Del video musicale Che riprende le atmosfere E i personaggi iconici Dell'ultimo capitolo Della popolare saga Capcom Resident Evil 7 Affidando a You Nuts La produzione Lavorare con artisti Di questo calibro A un progetto Legato a un titolo Di cui il gruppo È distributore Esclusivo per l'Italia Ha consentito A Digital Bros Di riversare nel video Non solo le sue professionalità Mi si capisce Che pipone Che è sta roba You Nuts Vuol dire Le tue noci Sì Le tue palle Ah ho capito Che carini I nomi veramente Da ricordare Ma anche Tutta la sua passione Nei confronti Va bene Allora che cosa vuol dire Vuol dire che potete andare È una spaga fiata Esatto Potete andare su YouTube Eventualmente E andate a sentirvi Questo brano Che non è neanche male A me piace il rap Il rap italiano Di solito mi fa schifo Questo mi fa un po' Meno schifo degli altri Ma parla di Resident Evil Quindi l'ho ascoltato Ben volentieri Se volete scaricarvelo Ragazzi è facile Lo dico piano Il sito è Fanlink Punto Torino Otranto Slash Resident Evil Ma Andrea Facile Ma non vi preoccupate Cari ascoltatori Di console generation Ma che voce Perché vi troverete Il video Direttamente Sulla pagina Ah Domani mattina Eh va bene Sembra Le lo pubblichiamo Sembra il cumenda Ovvero Il benestante milanese Che Parla così il benestante milanese Sei proprio un deficiente milanese Non è che cambierebbe tanto Ah beh beh Sono milanese Sputiamo in faccia i benestanti No ma il modo di parlare È un po' così Vabbè Raffaello Abbiamo visto Che il nostro Pierluigi Da Play Asia Pierluigi Bellini Da Playasia Punto com Dove potete trovare Tutto quello che volete O meglio Le cose difficili O impossibili Da importare Dal Giappone Ha selezionato per noi Un brano da un titolo Un altro picchiaduro Che ha fatto parte Della nostra storia videoludica Posso raccontare una cosa Sì però Fammi dire prima il titolo La racconto dopo Ci è piaciuto tanto E ancora oggi Mi piacerebbe vederlo In chiave proprio arcade Senza emulazione Era di Capcom Ed era X-Men Children of the Atom E questo brano E questo brano si chiama Psylocke Team O Dem Come preferisci Team E quindi Che cosa vuoi raccontare Prima di lanciare No 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 Facciamo così Lo racconto nel Nel post puntata Così chi ci vede In video puntata Venga su Spreaker Per guardarlo Per ascoltare Che cosa diciamo Vabbè Intanto ricordiamo a tutti Salutandoli Che forse Joyped Non cambia la vita Forse 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 Neanche il volante racing No Ma di certo L'addolcisce E quindi Raffaele Giocate 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 Ci vediamo settimana prossima E ci sentiamo Venerdì 22.30 Non più giovedì E quindi ragazzi State con noi Ciao Una puntata davvero ricca Ma arriverà un'altra settimana prossima Con altre prove Perché c'è tanto da fare Eh Tanto da fare Mamma mia Intanto Raffaele Bisogna ricordare Che come mamma Eh sì Perché ha tanto da fare Uno lavora tutto il giorno E poi deve anche avere da fare Con Console Generation E allora Visto che siamo impegnati noi Impegnatevi anche voi Un bel click su like Su condividi Su iscriviti Per stare sempre Sui nostri social Vedere la nostra puntata E la nostra diretta Ma tu ti sei iscritto? Certo Quando? Sei anni fa Ma fai vedere È qua Dammi i documenti Qua Patente? Vedi c'è scritto C'è la linea della vita Che sei serrotta con Console Generation Va bene Esecuzione rimandata Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti